Oggi vedremo uno scontro tra dei, tra titani, cosa fa il bianco? Dubov muove e mangia il pedone, scacco la donna, la donna si sposta e mette il bianco il pedone in avanti per un possibile scacco matto, il re va in settima traversa, scacco di donna con la torre, la donna fugge e miracolosamente la donna fa scacco al re, il re fugge, la torre continua a perseguitare la donna e la donna vuol cambiare, si mette di traverso, scacco al re di donna, donna incredibile, fugge ancora il re, scacco al cavallo, il pedone cerca di difendere, mangio di cavallo e rende attiva la torre, scacco al re di donna e il re unico posto, scacco matto, la caduta degli dei! Benvenuti sul mio canale, questa partita passerà alla storia, non tanto per il gioco ma per le persone che lo hanno giocato, Bill Gates contro Carlsen, il campione del mondo, vediamo che ha fatto, 1.400, cavallo C6 e cavallo F3, il nostro Carlsen fa D5 e ecco il primo errore, l'alfiere che difende un pedone bloccando l'alfiere e donna, Carlsen volpone, fa uscire il cavallo ma già si vede che non sta giocando, Bill mangia, entra la donna, mangia il pedone, scaccia la donna, grosso favore al campione del mondo che va nella colonna H, ancora più grande il favore che fa la Rocco Corto ed ecco subito entra in azione l'alfiere, cerca di scacciare l'alfiere, non gli interessa Carlsen, lui lo mangia, cavallo mangia pedone, Bill vede un cavallo che può essere importantissimo ai gratis, lo può regalare, lo mangia, si becca uno scacco matto che ricorderà per tutta la vita! Benvenuti sul mio canale, oggi vedremo una partita meravigliosa con il gambetto Evans, E4, E5, cavallo F3, cavallo C6, alfiere, alfiere C5, gioco piano, ecco il gambetto di Evans, l'alfiere scappa, noi non si guiamo con la colonna A, eccolo ancora, attacco all'alfiere, l'alfiere ancora fugge, attacco al cavallo, pedone mangia pedone, alfiere mangia il pedone e sviluppa il nero per arroccare, noi fermiamo l'arrocco con la potenza dell'alfiere e il cavallo si mangia il bel pedone, noi non arrocchiamo, mettiamo in trasparenza la donna con il re, il cavallo ingordo vuole la torre, noi la cediamo, ma lui ancora attacca anche la donna e noi ci mangiamo quel pedone, lui prenderà quella donna, la prende, e noi meravigliosamente, scacco doppio, scacco matto! Ciao!